Neve, nuova allerta, meteo in vista. Nelle prossime ore continueranno a scendere le temperature e sono previste anche abbondanti nevicate. Irpini e Sagno tra le città interessate dall'allerta, che prevede oltre alla drastica diminuzione delle temperature anche il rischio di nuove abbondanti precipitazioni nevose. Tra i punti dell'Irpinia già interessati dalla neve ci sono il Laceno e Montevergine. È stato lo stesso abbate Riccardo Guariglia ad allertare i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i tetti, in seguito alle forti nevicate, che non danno tregua da giorni e che proprio in queste ore si sono intensificate. La neve caduta copiosa ha raggiunto in diversi punti anche il metro di altezza e questo ha danneggiato il fermaneve del tetto della chiesa. Un lavoro attento ed accurato ha permesso la rimozione dei fermaneve rotti e di diversi lastroni di ghiaccio, fino a mettere in sicurezza la struttura. L'abbate, molto attento durante le operazioni, ha voluto sincerarsi di persona delle condizioni delle coperture. Così ha deciso di portarsi con l'elevatore dei caschi rossi sui tetti. Intanto al sud si appresta a vivere un'altra storica mega nevicata. Dopo quella del 31 dicembre e capodanno 2015, dopo esattamente 40 giorni, una nuova eruzione polare proveniente dalla Lapponia arriva al sud. Lunedì sarà la giornata più fredda. La neve, secondo le previsioni, potrebbe cadere abbondante con accumulo fin su Termoli, Campobasso, Foggia, Isernia, Benevento, Avellino e sconfinerà fino a Cassino, Caserta, Napoli e Salerno, dove potrebbe persino posarsi. Gli ultimi aggiornamenti delle mappe meteorologiche prospettano 24-36 ore, proprio in queste ore di grande gelo. Le temperature crolleranno fino ad oltre 10 gradi sotto le medie del periodo, con punte diffuse di meno 15 gradi lungo la dorsale appenninica. Grazie a tutti.